Ciao ragazzi, amici di News Formula Uno, bentornati da Giovanni Messi, presento l'amico Davide Russo. Ciao Davide. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Gran premio d'Austria che si è appena concluso con Verstappen che non ha avuto rivali, ancora una volta gran celem per lui, gara tutta in testa, Paul, vittoria e giro più veloce. Un dominio incredibile, ma veramente facciamo gli applausi a a Lando Norris che ha chiuso sul podio con una McLaren fantastica, bravissimo Lando, dietro a Bottas che va detto il suo l'ha fatto, bravo anche lui oggi, mentre è crollato totalmente Hamilton, addirittura quarto al traguardo a 46 secondi da Supermax, è una sofferenza incredibile per lui che sprofonda a meno 32 nel mondiale. La Ferrari tutto sommato oggi si è difesa, Sainz quinto, bravissimo anche lui, uno dei top sicuramente di giornata con le Clerc che invece è ottavo, tra i due Perez e Ricciardo completano la zona punti Gasly ed Alonso. Vai Davide con il tuo primo commento su quello che abbiamo visto oggi. Max Verstappen è in fuga perché vedremo dopo la classifica, ma comunque è l'ennesimo trionfo stagionale, il quinto su nove gare, l'undicesimo generale, quindi ha anche guantato quindicesimo, quindi praticamente sta anche scalando un po' di classifiche all time, questo ragazzo giovanissimo olandese che sappiamo essere un talento, però adesso sta diventando costante, ha fatto l'Emilton oggi, Lando Norris più forte di una direzione gara pietosa, ne parleremo perché secondo me c'è stato uno scandalo sul sull'inglese, Hamilton dovrà per forza di cose rifarsi nella sua Silverstone, non ci sono a questo punto tante altre scelte, deve per forza ritornare a fare bottino pieno, Perez disastroso ha buttato via anche una doppietta perché secondo me oggi sarebbe stata banale una doppietta Red Bull per quanto ha dominato Verstappen, Leclerc si è arrabbiato anche poco via radio, dato tutto quello che gli è successo con Perez che per due volte lo ha toccato e invece Russell ancora una volta questo incubo del suo primo punto non è riuscito negli ultimi praticamente chilometri della gara perché è stato superato da Lonzo e quindi dovrà rinviare questo appuntamento col primo punto con la Williams. Eh sì, una fuga mondiale quella che abbiamo detto di Verstappen che sembra ormai avere un controllo totale su questa vettura che va fortissimo, che lui fa rendere in maniera impressionante questo motore Honda potentissimo. Insomma qui in Austria sapevamo che era una pista che alla Red Bull storicamente è sempre andata bene ma oggi veramente hanno dominato in lungo e largo dunque fa male credo per uno come Hamilton che però va detto ha fatto i complimenti a Norris, quello è stato un bel gesto secondo me quando dopo quel duello che c'è stato quello un bel gesto del campione del mondo che però dovrà sì rifarsi a Silverstone ma io al momento non vedo come perché la Red Bull sembra aver avuto un non so se solo un fatto di pista ma al momento vedo una superiorità netta soprattutto con Max per quanto riguarda Norris da applausi questo pilota che sta facendo una stagione impressionante e oggi è arrivata un secondo da Bottas davanti a Hamilton quindi bravissimo e sì la assolutamente da criticare la direzione gara perché se oggi dai cinque secondi a Perez anzi dieci a Perez cinque a Norris allora riprendi i risultati di Austria 2019 togli la vittoria di Verstappen e la dai a Leclerc perché lì Verstappen aveva buttato fuori pista a Leclerc con una ruotata ma lì non si fece nulla qui oggi non è che potessero sparire Norris nel caso con Perez e Perez nel caso con Leclerc cioè se vai all'esterno in una curva sai che puoi rischiare di andare fuori pista non poteva sparire l'altro pilota quindi veramente una farsa e lasciami dire anche il discorso di Tsunoda no che è vero un errore un po' da principiante in effetti quello di tagliare la riga d'ingresso pitlane ma un ingresso secondo me molto pericoloso perché è sulla curva su quella curva che si fa duecentocinquanta all'ora io l'ingresso lo metterei qualche metro più avanti dopo la curva perché è molto pericoloso quell'ingresso quindi si parla tanto di sicurezza ma lì pure c'è un discorso molto molto ampio da fare però direzione gara assolutamente bocciata. Sì perché questa non è la formula uno di cui siamo innamorati cioè i piloti vanno lasciati correre ricordiamo c'è un passo indietro Canada 2019 succede quel gran casino tra tra Fettel ed Hamilton tra i giudici c'è Pirro dopodiché dall'Austria si annunciò questo let them race cioè lasciamo correre i piloti e quindi quel contatto quel duello finale tra Versa per Leclerc fu giudicato regolare e non ci fu alcuna penalità ricordo ancora il team radio di Leclerc che orlò what the hell cioè arrabbiatissimo anche oggi abbiamo sentito arrabbiato Leclerc ma con quale logica oggi si penalizza Lando Norris per una difesa e soprattutto si fa un 5 più 5 con Perez che poi per questione anche di poco non si è tenuto il quinto posto perché poi lì la logica non c'è perché bastava creare un gap con quelli che seguivano poi è stato bravo Sainz con una bella gara una bella rimonta riprendersi sì molto costante la posizione lì su Ricciardo e creare il minimo necessario insomma per tenersi da posizione e di del quinto posto però ragazzi non si capisce nulla io lo dico sempre servirebbero gli stessi giudici in tutti i GP del calendario quelli sono i GP dell'anno e quindi non è il calcio e si potrebbe tranquillamente fare ma sì sì assolutamente oppure se vuoi proprio cambiare i giudici dai delle regole chiare cioè che non possono essere interpretate o meno da da come gira il giudice di turno devono esserci delle regole chiare perché lì proprio non c'era nulla da fare cioè lì il pilota non poteva andare da nessuna parte e poi secondo me sono arrivate le penalità perché qui c'era la ghiaia quante volte vediamo episodi simili dove invece c'era via di fuga in asfalto e non succede nulla qui invece c'era la ghiaia magari fa più scena quello che succede si rischiano più danni e quindi viene data la penalità secondo me anche quello ha influenzato il fatto che qui ci fosse la ghiaia perché tante volte vediamo duelli così il pilota che spinge fuori dalla pista ma se c'è l'asfalto in fin dei conti non succede nulla quindi assolutamente bocciata la direzione gara e non ci piace così non ci piace perché vai a falsare una gara come abbiamo detto cioè Norris avrebbe fatto anche il secondo perché quella posizione su Bottas l'ha persa quando ha scontato la penalità e anche Perez comunque ha perso tanti secondi e poteva quasi attaccare Hamilton senza quella penalità quindi brutto brutto quello che abbiamo visto no ma Perez ha fatto una gara disastrosa aveva più tempo all'inizio per superare Norris quindi avrebbe potuto gestire la sua corsa in un modo differente poi Norris ad un certo punto si è tenuto bene dietro Hamilton quindi ha coperto Norris le spalle tra virgolette a Verstappen e comunque ne aveva di più ma in ogni caso abbiamo visto Norris strepitoso cioè sto ragazzo sta facendo una stagione incredibile e più che altro senza quei secondi di penalità probabilmente sarebbe arrivato secondo cioè bisogna entrare anche nell'ottica della sfida che poi si è creata tra Bottas e Norris comunque la McLaren si tiene stretto questo terzo posto nei costruttori e abbiamo visto un team in grande crescita oggi eh su questa pista la McLaren veramente ne aveva di più pista di motore ne abbiamo detto l'abbiamo detto anche ieri nel paragone con Ferrari e la Ferrari ha fatto quello che che poteva e doveva dopo quello che era accaduto ieri con questa scelta che poi non è stata tanto una scelta come ha spiegato anche le clerche perché non si aspettavano di essere dietro alla Williams però insomma gara di rimonta e zitto zitto Sainz fa il suo e si mette lì in quinta posizione. Leggo subito un messaggio di Damiano che ci dice la Ferrari oggi aveva il passo per andare vicino al podio ed era più competitiva della Red Bull di Perez sei d'accordo? Io assolutamente no ragazzi non si può estrapolare un frame della gara e fare una valutazione complessiva Perez si è ritrovato lì e sappiamo l'errore che ha commesso e quindi in quel caso è un momento semplicemente della gara. Forse aveva anche macchina un po' danneggiata perché ha fatto una brutta uscita sulla ghiaia. No ma la Red Bull ragazzi è un macchinone inavvicinabile? Sì 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 sono d'accordo no poi anche volendo togliendo Perez c'era Norris che per la Ferrari era inavvicinabile quindi non non c'era il problema della Ferrari è che quando vuole fare quando va forte in gara va male in qualifica naturalmente partendo undicesimo dodicesimo non puoi pensare di giocartela con Norris che parte secondo ma Binotto ha detto che adesso l'obiettivo non è più il terzo posto costruttori quindi quindi adesso saranno contenti per questa gara comunque vista la qualifica è una buona gara ma ormai la McLaren soprattutto Norris non diciamo McLaren diciamo Norris sembra sembra inattaccabile troppa differenza e ti lancio una provocazione secondo me la Ferrari ha fatto anche un errore perché ha tenuto troppo fuori Leclerc se fosse rientrato prima staremmo parlando di tutta altra gara perché ritrovandosi davanti a Perez non ci sarebbe stato quel casino quindi hanno forse temporeggiato troppo io almeno l'ho vista così sì sì gli hanno fatto fare quei tre quattro giri più di per allungare lo stint che francamente non ho non ho capito assolutamente perché gli hanno fatto perdere tempo e alla fine con Perez se la stava giocando perché comunque Leclerc sul ritmo non era messo male Perez sì oggi molto molto male anche da a livello di prestazione perché non ha mai avuto questo ritmo impressionante come detto forse c'era qualche piccolo danno al fondo per l'uscita lì al primo giro però assolutamente era una posizione che ti potevi tenere secondo me almeno per per più a lungo poi non so magari Perez avrebbe avuto più ritmo alla fine sulla gestione gomma però sì forse un piccolo errore questo piccolo errore ma perché le posizioni sono queste insomma sappiamo bene quanti errori invece ben più gravi sono stati fatti a livello di strategie in passato dal muretto comunque ragazzi la sfida la McLaren diventa diventa molto molto complessa perché naturalmente con questo terzo posto di Norris ma sembra assolutamente un fire sto ragazzo cioè non è il primo podio della stagione su questo tracciato tra l'altro Norris aveva fatto podio per la prima volta in carriera lo scorso anno quindi si trova particolarmente a suo agio però mentre Ricciardo l'abbiamo visto comunque sì in rimonta ma non si è riuscito a tenere dietro entrambe le Ferrari con con Sainz che l'ho sovrapansato proprio a pochi chilometri al traguardo Norris quasi quasi riusciva probabilmente a fare secondo quindi una McLaren davvero con questo motore Mercedes che ha fatto un ulteriore step e oggi l'abbiamo visto tutto sì sì assolutamente ma questa questa McLaren va fortissimo cioè a me è impressionato il fatto che Perez fosse lì con le Mercedes cioè che comunque domenica scorsa Mercedes Red Bull erano in avvicinabili stessa pista e oggi invece McLaren con Norris era lì e ne aveva di più di Hamilton era lì con Bottas anzi e sarebbe stato anche davanti a Bottas quindi nella formula uno di oggi un risultato incredibile visto il gap tecnico che c'è a favore di Red Bull e Mercedes quindi tanto di cappello a questa squadra che è risalita e bravissimi veramente tanti tanti complimenti al team di Walking che comunque ci fa piacere vederlo lì perché è una squadra storica e è tornata dove merita di stare. No rispondo un po' di commenti ragazzi assolutamente siamo siamo strafelici per Sainz è una scommessa vinta e una delle delle poche vinte negli ultimi anni nella scelta almeno dei piloti che non hanno mai rappresentato un problema però va detto che Sainz e Leclerc se avessero una macchina secondo me un mondiale se lo giocherebbero tranquillamente quindi Sainz sta crescendo forse è il pilota migliore cioè che si è ambientato meglio in questa stagione rispetto per dirti a Ricciardo che invece è in una difficoltà clamorosa ovviamente Perez ha anche vinto una gara ma guida una Red Bull quindi sì davvero lo spagnolo è tanta tanta roba poi ovvio non stiamo qui a ad esultare perché comunque è un quinto posto però insomma nel complesso Sainz con le gomme dure ha fatto ha fatto il suo sì 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 beh Sainz mi sta sorprendendo adesso non so realmente in classifica credo sia veramente vicino a Leclerc credo prima di questa gara fossero otto punti a favore di Leclerc adesso sarà due tre punti se non vado errato magari si riesce a ritrovare la classifica piloti però una stagione incredibile è vero che Leclerc non ha corso a Montecarlo dove partiva in pole lì sono venticinque punti potenziali che che ha perso eh però sì Ugo ci dice che Sainz è arrivato lì grazie alla strategia gomme muretto eh che ha sicuramente una strategia che Sainz che ha aiutato un po' più Sainz perché le bianche inizio gara ci ha fatto quasi 50 giri quindi quella va detto è stata una buona strategia con Sainz invece con Leclerc un po' più un po' più difficile eh Salvo ci dice tutti i cavalli che aveva la Ferrari dove sono finiti eh per il per il podo ci possiamo tentare e la Ferrari ha perso i cavalli con quell'accordo sedo dell'anno scorso no? Quello che che non probabilmente non sapremo mai quindi non c'è più quel super motore del duemiladiciannove eh infatti colgo anche un attimo l'occasione per per rispondere un po' di commenti colletti in questi giorni qui si si parla di Ferrari non si dice che Ferrari ha fatto una grande rimonta rispetto al duemilaventi il duemilaventi ci ricordiamo che che macchina che era la Ferrari un disastro completo però giusto per completare un po' la pillola per per completare questo discorso non è che se la Ferrari del duemilaventi andasse male è colpa di qualche altro team è la Ferrari che aveva fatto una vettura poco competitiva e quest'anno ma io non la vedo come la giustificazione che la Ferrari nel duemilaventi andasse male cioè è una Ferrari che ha sicuramente imboccato un ciclo tecnico negativo e che deve rialzarsi piano piano però non è che la scusa è che l'anno scorso andasse male se quest'anno va leggermente meglio intendevo dire quello David sì sì sono d'accordo poi sicuramente ragazzi i motori e il motore fa la differenza la Power Unit Mercedes oggi un po' come il discorso della Honda fa una clamorosa differenza rispetto per dirti anche non solo al motore Ferrari ma anche a quello dei francesi dell'Alpine poi c'è un commento che dice Sainz gestisce pure meglio le gomme di Leclerc secondo me è un po' forse legato allo stile di guida cioè Sainz lo vediamo molto molto costante Leclerc anche nei tentativi di sorpasso fa tanti bloccaggi è più aggressivo no e questo porta naturalmente a diversa usura delle mescole però sono due stili diversi a me piacciono entrambi perché Sainz secondo me è molto maturo può portare tanti punti a casa quindi quindi siamo contenti però certo la McLaren in questo momento adesso ti leggo la classifica Giovanni così vediamo anche più 19 la McLaren al momento più 19 allora Red Bull 286 davanti a Mercedes 242 McLaren Mercedes 141 sì più 19 sulla Ferrari 122 Alfa Tauri 48 Aston Martin 44 e sempre questi due team poi alla fine colgono meno rispetto a quelle che sono le potenzialità Alpine 32 Alfa Romeo sempre lì con due punti uno a testa di Giovinazzi e Raikkonen per ora in questa stagione Asse Williams sempre ferme a zero se vuoi vado anche la classifica piloti certo certo vai Verstappen 182 Hamilton 150 quindi sono trentadue punti di vantaggio di Verstappen iniziano ad essere tanti eh non ci aspettavamo il quarto posto oggi di Hamilton Perez 104 Norris 101 ragazzi Norris 101 sta a tre punti dal terzo posto clamoroso Bottas 92 al quinto Leclerc 62 Sainz 60 quindi siamo veramente lì meno due in questa prima parte di stagione ricordiamo i distacchi invece rispetto a Fettel Ricciardo 40 Gasly 39 Fettel 30 quindi qui siamo tutti più o meno lì e fuori dalla top 10 c'è Alonso a 20 Stroh a 14 Ocon tredicesima posizione con 12 punti Sunoda 9 Raikkonen e Giovinazzi quindicesimo e sedicesimo con un punto e poi c'è Latifi Russell Mazepi Schumacher a zero sì oggi volevo dire questa cosa male l'Aston Martin eh l'Aston Martin oggi ci sono state delle fasi addirittura superate da Russell quindi a parte il contatto tra Kimi e Fettel alla fine ma veramente deludente questo team che nelle ultime gare sembrava un po' in crescita sul passo gara invece oggi totalmente sparite eh male male l'Aston veramente anche un peccato eh però non non si trovano assolutamente con questa monoposto 2021 che non riescono che una gara va forte poi ne fa due tre negative poi torna andare forte veramente uno dei misteri secondo me di questo mondiale sì poi c'è un commento sempre di William che salutiamo che che commenta sempre la Williams secondo me sarà tifoso a questo punto del del team inglese peccato per Russell che alla fine aveva finito le gomme peccato sì perché sinceramente dopo la qualifica di ieri però va forte va forte Razzo un punticino se lo meritava e vediamo un po' qualche altro commento Ugo ci dice Chimi oramai è da pensionare perché è stato protagonista di una collisione con con Sebastian Fett tu come l'hai vista? Ma sinceramente non ho non ho avuto modo di approfondire troppo le le responsabilità si sembra un po' Chimi che è andato a colpire Fettel però potrei dire una stupidaggine perché non l'ho visto veramente troppo in maniera troppo attenta però sì Raikkonen oggi l'Alfa Romeo in generale sempre più in difficoltà Giovinazzi ieri aveva fatto una buona qualifica ma in gara purtroppo non non c'è l'Alfa Romeo e anche qui i piloti sono costretti a volte a rischiare troppo perché quando non hai un mezzo competitivo sei anche portato a fare degli errori certo un brutto botto Eugenio ci dice in quale team vedreste Norris ovviamente se lo contenderanno i top team lo vedo bene lì in McLaren dov'è perché sarebbe chiuso altrove c'è Verstappen in Red Bull c'è Hamilton che ricordiamo ha prolungato questo weekend per altre due stagioni quindi al massimo arriverà Russell al posto di Bottas io lo vedo bene lì che adesso veramente è la prima guida del team di walking quindi sta facendo benissimo non lo smuoverei dalla McLaren poi c'è Luigi che ci fa come al solito ci provoca ma secondo voi Elkan sarà contento oppure no oggi? ma visti anche gli obiettivi di inizio anno della Ferrari che era un terzo posto costruttori non credo perché comunque eri lontanissimo da Norris però visto che lui è contento per un giro più veloce penso penso che se la canterà e se la suonerà per la rimonta di oggi Eugenio ci dice se non taglieranno teste aspetta che l'ho perso se non taglieranno teste in Ferrari non cambierà nulla perché Binotti è un intoccabile è una bella domanda ma secondo me più che attuare dei tagli di testa in Ferrari la Ferrari dovrebbe iniziare a guardarsi a guardare fuori da se stessa e a cercare di scippare tecnici alla concorrenza quello è quello che deve fare la Ferrari che è quello che ha fatto la Red Bull prendendosi dei motoristi Mercedes perché la Ferrari attualmente non è una squadra che può vincere io la vedo così almeno per questo ciclo tecnico poi per il prossimo non lo possiamo dire ancora però al momento i tecnici che ci sono non si sono rivelati all'altezza della della concorrenza e quindi devi fare come negli anni di Schumacher prendere tecnici dall'esterno e costruire un team forte perché altrimenti così continuiamo a prendere un minuto a gara se quello se quello al tifoso va bene pazienza sì ma io la faccio in modo molto semplice su Binotto secondo me lui ha un'anzianità comunque di diversi decenni a Maranello si è ritrovato in quella posizione perché praticamente c'è stato questo no ma neanche per caso perché comunque c'è stata una sua richiesta esplicita se ricordi e e quindi arriva bene eh fu fu scilurato adesso è alla Juventus da questo punto di vista qui Binotto ha voluto questa posizione in principio nonostante i limiti comunicativi perché fondamentalmente è un tecnico e come ingegnere è anche molto valido quindi se andrebbe se andasse scusa altrove sarebbe tutta un'altra storia però insomma Binotto in questo momento si è anche un po' defilato abbiamo visto tante volte che non è più al muretto box insomma ragazzi una situazione particolare in Ferrari perché non c'è una dirigenza ma io spero si stia veramente buttando il 110 per cento su su questa nuova stagione su questa nuova era perché lo sappiamo ormai la Formula 1 è un congelatore sarà difficilissimo recuperare se dovessi sbagliare il progetto iniziale quindi Ferrari deve partire subito forte e sperare soprattutto perché non è che gli altri staranno fermi cioè la Red Bull che ha fatto questa rimonta sulla Mercedes io me l'aspetto fortissimo anche l'anno prossimo così come la Mercedes che avrà Hamilton e Russell quindi non è che avrai avrai avversari scarsi il prossimo anno anzi saranno più agguerriti che mai però non ci sono scuse però l'anno prossimo deve lottare per le vittorie cioè non ti puoi accontentare di un podio l'anno prossimo Marco dice quinti e sesti è il massimo a cui possiamo aspirare Ferrari non all'altezza della storia della scuderia è quello che diciamo sempre poi ci prendiamo le critiche veniamo anche attaccati è per quello che diciamo perché ormai ci sono molti che credono che la Ferrari sia intoccabile e con quello che ho detto prima cioè la giustificazione di questa stagione è che l'anno prossimo è che lo scorso anno la Ferrari non fosse all'altezza ma la Ferrari dell'anno scorso l'ha costruita la Ferrari quindi non è che è una giustificazione e poi soprattutto c'è il discorso dell'accordo segreto che appunto è segreto ma ha portato la Ferrari politicamente a subire un danno enorme comunque Carlo ci chiede a fine stagione pensate che Sainz possa superare le Clerc io credo di no onestamente tu che dici ma non lo so e non mi aspettavo che c'era sicuramente non mi sarei mai aspettato Sainz così vicino alle Clerc quindi può succedere di tutto e le Clerc l'ho visto anche un po' con le con i tipi di attacchi che fa anche un po' nervoso no la guida perché secondo me un po' la pressione di Sainz la sente quindi non è non è da escludere perché anche le Clerc è giovanissimo quindi ogni tanto qualche colpo di testa lo fa mentre Sainz lo vedo più maturo magari meno veloce però più più maturo sicuramente quello sì quindi è tutto aperto c'è un'altra domanda relativamente a Bottas che oggi ha fatto una discreta gara è arrivato secondo bravo e ci chiede se vediamo Bottas sostituito da Russell in questa stagione allora io credo proprio di no ma io ho anche un sospetto cioè il prolungamento di Hamilton è un momento importante di di insomma eh di potere che che la Mercedes affida al suo campione quindi l'ha detto esplicitamente Hamilton che preferirebbe avere Bottas e di conseguenza io non credo che abbia paura di Russell però è un giovane di talento che potrebbe un po' andare anche a rimescolare eh le carte quindi vedremo cosa accadrà secondo me Bottas continua ad avere qualche chance ma io spero di vedere Russell in Mercedes sì anche io anche io dobbiamo vederlo Russell perché le ultime gare soprattutto che sta facendo è cresciuto anche in gara perché ricordiamoci che guida una Williams e anche oggi vederlo sorpassare le Aston Martin insomma ci è piaciuto eh però obiettivamente anche Hamilton deve deve un po' darsi una svegliata perché sembra assolutamente demotivato oggi che non aveva ritmo si parlava nuovamente ogni volta che Hamilton non ha ritmo c'è qualche danno alla macchina anche oggi si parlava di un danno sulla vettura effettivamente era anche un po' troppo lento però si sembra totalmente totalmente demotivato al momento Hamilton dopo anni di dominio si trova questo overstappen che gli sta rovinando la festa il sorpasso a Schumacher nei mondiali e sicuramente nervoso allora Perez assolutamente colpevole dice Alessandro ma anche Leclerc forse troppo ottimista nel tentare sorpassi in punti molto rischiosi ragazzi no cioè ragazzi Leclerc io lo dico per me è un fenomeno quindi fa quello che può e in quel momento doveva prendersi dei rischi ci ha provato due volte e contro una Red Bull ricordiamolo a Red Bull cosa riesce a fare Merstappen oggi su questa macchina che fa secondo me una differenza mostruosa perché con Perez la differenza è allucinante sì altrimenti ti devi accontentare di stare dietro cioè voglio dire non è che c'è molta alternativa o ti metti lì a trenino o ci provi io preferisco un pilota che ci provi e quindi Leclerc è stato è stato veramente gagliardo soltanto che lì è stato chiuso con con estrema cattiveria infatti è arrivata una penalità quello che non capiamo è la difesa di Norris che assolutamente regolare quindi è un incidente di gara bisogna lasciarli liberi in quei casi io anche quella di Perez non la vedo come chissà che cioè ripeto se concedi quello che hai concesso a Verstappen due anni fa la vera e propria ruotata queste cose non puoi sanzionarle se no non hai credibilità appunto però dico se poi sanzioni Norris gli devi dare anche più di cinque secondi non è che puoi dare la stessa penalità cioè siamo siamo alla follia è veramente imbarazzante come come aggiunge Alessandro Ugo Hamilton esattamente questo fino a chi aveva una macchina superiore faceva l'attore con le sue scenate ora per fortuna tutto finito io direi aspettiamo Silverstone ragazzi perché lì la Mercedes secondo me tornerà a essere competitivo o meglio deve deve cercare di tirar fuori un risultato importante in Inghilterra quindi mi aspetto mi aspetto comunque qualcosa insomma. Ah sì anche perché da Monte Carlo in poi la Mercedes è sparita eh cioè è da Monte Carlo a parte la Francia che comunque era in lotta su una pista Mercedes ma Monte Carlo Hamilton non si è visto Azerbaijan era in difficoltà obiettivamente sul ritmo la Mercedes rispetto alla Red Bull in Francia c'è stata ma qui in Austria non si è proprio vista quindi sono gare ormai che la Mercedes è nettamente inferiore alla Red Bull e solo di strategia se la stavano giocando in Francia quindi sicuramente c'è qualcosa che non va in in casa Mercedes e è la prima volta che lo vediamo questa situazione tecnica cinque gare senza vittoria e non vincono un gran premio dal nove maggio cioè sono due mesi che Mercedes non vince una gara mai successa una roba simile. No ma stavo vedendo il rollino di marcia di Leclerc che ha fatto sesto quarto sesto quarto poi mancano ovviamente i punti di di Monaco perché è successo purtroppo il patratac e quarto di nuovo a Baku e vabbè Francia è meglio non dirlo settimo e ottavo in questi ultimi due GP quindi nel complesso la cosa paradossale è che l'anno scorso di questi tempi Leclerc era andato già due volte a podio cioè una roba che non ti spieghi perché comunque l'SF21 è una vettura è una vettura migliorata rispetto all'SF1000 quindi è anche molta fortuna. Erano stati anche podi sì un po' casuali perché l'Austria l'anno scorso fece un podio con dei grandissimi sorpassi nel finale di gara dopo delle sette gare alcuni ritiri nobili a Silverson fece podio con la foratura di Bottas a due giri dalla fine quindi anche un po' casuali però sì c'erano delle gare nella prima parte del 2020 proprio le prime cinque sei gare qui la Ferrari riusciva ad essere lì terza quarta forza poi crollò incredibilmente da Spain poi però c'erano delle gare che un minimo se la riuscivano a giocare a inizio della stagione poi non hanno più sviluppato e tutto però sì c'erano delle gare che erano leggermente più competitivi di alcune gare del 2021 invece Sainz ottavo quinto undicesimo in Portogallo settimo in Spagna secondo a Monaco quindi l'unico podio per ora a casa Maranello l'ha portato Sainz ottavo a Baco undicesimo in Francia sesto quinto in queste due in queste due corse quindi Sainz diciamo riesce a mantenere quella costanza perché anche sì perché anche nei due GP dove non è andato a punti è arrivato undicesimo cioè voglio dire riesce magari a essere più sì più equilibrato in questa in questa prima fase poi il calendario è lunghissimo e McLaren tre podi a uno comunque nella lotta con la Ferrari c'è tre podi la McLaren uno l'Aston uno l'Alfa Tauri uno la Ferrari quindi sì in effetti vedere in nove gare la Ferrari una volta sul podio e basta fa pensare dai Davide non si può non si può essere contenti obiettivamente cioè il tifoso io non credo possa essere contento poi con tutte le giustificazioni del caso ma di stacco medio di un minuto al giro di un minuto ogni gran premio eh cioè non vedo come si possa essere contenti ma poi l'abbiamo detto anche un po' ieri cioè dopo la Spagna che è un circuito su cui vengono fatti anche i test e la Ferrari era andata discretamente bene non ci aspettavamo minimamente questo crollo ragazzi perché poi sono ci sono stati due tracciati cittadini però è arrivata la Francia e lì è stato fatto comunque insomma ha detto anche Mazzola andatevi a vedere la la diretta che abbiamo fatto in settimana e lì qualche cosa eh di di clamorosamente sbagliato è stato fatto e poi queste due gare comunque dove si cerca con fatica di stare lì ma ma Norris e la McLaren si sono ripresi il vantaggio eh forse dovevano sfruttare meglio in casa Ferrari i due GP cittadini cioè Monaco e Bacu dovevano arrivare molti più punti. Eh sì a Bacu c'è stato il solito problema della della gestione gomme no? Ferrari che andava in qualifica ma in gara che era crollata poi grazie a due tre ritiri davanti Leclerc era arrivato quarto però sì la lotta con la McLaren obiettivamente adesso io vedo nettamente favorita la McLaren perché è vero che tra due gare c'è Budapest ma poi ci sarà Spa ci sarà Monza quindi insomma arrivano anche piste dure dal punto di vista motoristico a Silverstone l'anno scorso va detto nonostante la SF1000 andò andò discretamente con Leclerc fece un terzo e un quarto posto nelle due gare di Silverstone quindi quindi mi aspetto un qualcosa di positivo comunque certo devi cercare comunque di trovare il bandolo della matassa e di per andare forte in gara di non partire dodicesimo perché comunque a Silverstone non è l'Austria è anche un po' più difficile superare rispetto all'Austria devi partire un po' più avanti ma guarda come ognuno poi vediamo tutte le stesse gare ma poi abbiamo idee differenti c'è Damiano che dice secondo me oggi ordini scuderia altrimenti Leclerc sarebbe rimasto davanti a Sainz e invece Davide fraccaro che dice quest'anno Leclerc soffre la pressione di un compagno di squadra costante sempre a punti cioè io onestamente non vedo Leclerc sofferente da questo punto di vista però va detto che Sainz magari con questo su con questa sua qualità di essere così costante forse alla lunga è il pilota giusto cioè si sta dimostrando il secondo tra virgolette giusto a Maranello perché porta tantissimi punti sì 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 ma su questo non c'è dubbio l'ha detto questi piloti io li voglio vedere con una macchina competitiva li voglio vedere lottare perché perché se lo meritano sono due piloti forti che che se lo meritano quest'anno dobbiamo resistere a tutti i tifosi della Ferrari dobbiamo resistere dobbiamo sopportare e poi a Melbourne però Ferrari che deve essere tassativamente in lotta per la vittoria perché lì non esistono alibi sì concludiamo il discorso sulla Ferrari con questo commento amaro di Luigi ha detto se ci fate caso adesso che la Ferrari abbandonerà anche gli sviluppi 2021 purtroppo il gap con i primi aumenterà la possibilità di doppiaggi in ogni gara sarà sempre più probabile è vero cioè è così e quindi eh abbiamo visto che alla fine Allison ha smentito Wolf quindi anche Mercedes seguirà la Red Bull con nuovi aggiornamenti ovviamente non è che si parla di grandi pacchetti però qualche micro aggiornamento eh e sviluppo ci sarà quindi la Ferrari da questo punto di vista qui punta fallo lì forse ci sarà un fondo forse ci sarà un fondo a Silverstone sulla Ferrari che hanno provato nelle libere qui in Austria e che si è promosso debuterà a Silverstone però credo sarà l'ultima cosa insomma non ci sarà granché ultimo commento poi diciamo due cose e chiudiamo bello vedere tanti tifosi di Verstappen vero eh gradinate piene una festa una questa festa orange che tra l'altro Norris ha anche scherzato dice i colori della meccara in realtà erano tutti quanti con le magliette Max Verstappen però bello gli va dato atto a Verstappen che ha scatenato una passione incredibile veramente anche quando noi andiamo in pista adesso ovviamente un po' di meno per il discorso covid però vedi questi pullman di tifosi di Verstappen fra l'altro diciamola questa cosa curiosa atto dobbiamo dare anche al padre atto che che l'ha scatenata un po' lui anche la passione perché lui compra dei biglietti di una tribuna intera come quella lì del tratto centrale del Gran Premio d'Austria e poi gli regala ai fan club di Verstappen quindi è proprio è anche incentivata questa passione no da regalare dei biglietti che potrebbero valere 300 euro e quindi metterebbero anche in difficoltà un tifoso e anche loro che che coltivano questa passione portano gente in pista quindi bravi la famiglia Verstappen e si merita quello che sta avendo Verstappen che poi ho letto che tanti ragazzi in Olanda hanno iniziato a correre quindi si fa tantissimo adesso in go kart sia ci sono una passione quindi tra una decina d'anni vedremo sicuramente più piloti olandesi volevo ricordare a chi ci segue che faremo una diretta eh con con un ospite d'eccezione dillo tu Giovanni sì giovedì prossimo avremo Thomas Biaggi da Bar Motorsport ex pilota commentatore anche per Sky insomma nel passato di gare di NASCAR di DTM di GT quindi insomma un grande del motorsport che anche lui è innamorato di queste di queste categorie grande pilota ha pinto anche il mondiale FIA GT lui negli anni duemila con la Maserati MC 12 poi ha partecipato anche a diversi campionati italiani dunque un personaggio veramente divertente poi oltre che grande pilota quindi non mancate perché perché ci sarà da divertirsi ecco non non ve la perdete poi faremo anche qualche domandina piccante no? Anche perché è un altro che non appeli sulla lingua eh da quello che ne ho appreso ragazzi condividete questo video ovviamente eh andremo anche su YouTube quindi se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi mettete un bel like insomma sosteneteci da questo punto di vista qua se non l'avete già fatto comunque accendete la campanella anche su YouTube così vi arrivano le notifiche quando pubblichiamo un video nuovo poi eh tra due settimane finalmente è finito sto sto trittico di gare consecutive ci vediamo per le sprint race perché commenteremo commenteremo la prima sprint race della della storia della Formula Uno vedremo come andrà non partiamo con troppi pregiudizi io sono molto più tradizionalista su certe cose però vediamo questa novità che cosa ci dice magari ci piace pure eh senza senza troppi c'è la qualifica al venerdì al venerdì al posto delle libere due ci sarà una qualifica che determinerà l'ordine di partenza della sprint race del sabato sono cento chilometri quindi a Silverstone il GP di trecento chilometri sono cinquantadue giri quindi penso Davide quanti saranno una ventina di giri cento chilometri adesso grosso modo a fare due gare mezzoretta una mezzoretta però però vediamo potrebbe anche essere interessante e e determinerà l'ordine di partenza della gara domenicale quindi sarà curioso avremo un piccolo GP al sabato e tra l'altro Rose Brown ha detto che statisticamente verrà considerato il Pullman quello che vincerà la sprint race quindi anche questa novità particolare la commenteremo insieme a voi quindi non mancate vedetevi la la sprint race così poi ci fate sapere la vostra perché lì ci sarà una marea di commenti e niente ragazzi ci fa sempre piacere condividere con voi perché comunque anche nonostante questa formula uno che è passata da un dominatore all'altro cioè dalla Mercedes di Hamilton alla Red Bull di Verstappen comunque ci tiene ci tiene compagnia e siamo appassionati tantissimo e soprattutto voi che ci iscrivete davvero siete i numeri uno perché non non abbandonate la nave grazie ragazzi ciao a tutti ragazzi ciao